Vogliamo raggiungere quest'oggi in particolare Roberto Crestan, direttore della rete sanitaria d'eccellenza in Africa per Emergency. Intanto lo salutiamo. Ciao, grazie mille per essere qui. Buongiorno a tutti. Allora, purtroppo qualche giorno fa è successo qualcosa di piuttosto pesante per quanto riguarda uno dei vostri presidi in Sudan, in particolare siamo a Niala. Ci puoi raccontare che cosa è successo? Sì, la settimana scorsa la nostra clinica pediatrica a Niala in Darfur, che è la regione ovest del Sudan, è stata attaccata ed è stata rapida, luta, saccheggiata. Il nostro staff è stato arrestato anche se è stato subito rilasciato. Niala è ancora interessata dalla guerra tra l'RSF e il staff, l'esercito sudanese. In quei giorni l'RSF ha preso il controllo della città, è stato l'attacco finale con cui RSF ha definitivamente preso il controllo della città. A seguito di questo attacco, dalla fine di questo scontro, parte delle truppe RSF sono arrivate alla nostra clinica e dopo aver arrestato lo staff e averlo portato in una caserma, ha svaliggiato la clinica. Il giorno successivo siamo stati contattati dagli RSF che ci hanno porto le loro scuse per l'incidente, come hanno definito che è successo. Tutto lo staff è stato rilasciato. Ora stiamo ripulendo la clinica con il nostro coraggiosissimo staff sudanese e stiamo cercando di capire se ci siano le condizioni di sicurezza per riprendere più presto l'attività che è la volontà dell'organizzazione, la volontà di emergenza sia di riaprire la clinica pediatrica il prima possibile. Mi ricordo nell'intervista precedente che avevamo fatto con una delle donne che lavora per emergency proprio in Sudan, ci sottolineava il fatto che e soprattutto il personale locale che spinge per mantenere il più possibile attive i vostri presidi, spinge per non chiudere, spinge per continuare ad offrire questo servizio, insomma è proprio il personale sudanese che spinge in questo senso. Mi sembra di capire che anche qui ci sia questa spinta particolare. In Sudan siamo presenti da vent'anni, i nostri ospedali sono tra gli unici rimasti aperti, non ci sono tutte le strutture, tutto il sistema sanitario è al collasso, anche a Niala la nostra clinica pediatrica è uno degli unici ospedali rimasti aperti, di conseguenza è un'importanza essenziale, vitale per la popolazione che lo vuole tenere aperto perché da un servizio irrimunciabile. A inizio settembre gli ultimi staff internazionali sono noti via, sono usciti dal paese perché erano lì da prima dell'inizio della guerra, erano bisogno di un ricambio, non siamo riusciti ancora a mandare nuovo staff internazionale, perciò la clinica da inizio settembre sta andando avanti con solo le forze dello staff sudanese che è riuscito seppur ad attività ridotta a mantenere attiva la clinica e adesso ci mandano le foto, purtroppo abbiamo enormi problemi di comunicazione, tutte le telecomunicazioni sono saltate, riusciamo a stento con un po' di whatsapp a rimanere con loro, riceviamo le foto dello staff che sta cercando di ripulire e far riprendere l'attività il prima possibile, non appena saremo riusciti ovviamente a far entrare gli equipaggiamenti, i farmaci necessari a riprendere il prima possibile l'attività che sono stati appunto derubati, spariti e c'è un problema di ingresso di persone e farmaci perché raggiungerà gli ospedali. In tutto questo appunto, tutto questo sta avvenendo nel mezzo di questo terribile conflitto, adesso senza andare troppo nel dettaglio ma sembra sempre più chiaro che non ci sia una direzione chiara che possa prendere questo scontro, è qualcosa che si è stabilizzato tra moltissimi virgolette nel corso dei mesi e insomma sta continuando in maniera piuttosto brutale, interessando molte aree del paese, c'è ad esempio anche la capitale Khartoum che sembra essere un po' il fulcro, insomma una guerra che sta interessando vaste aree di questo paese immenso che è il sud, non è qualcosa di circoscritto. Sì, fortunatamente sono ripresi e dopo mesi negoziati a Jeddah tra le parti in conflitto però il conflitto come stavi dicendo è ancora molto attivo in un'area enormemente vasta come è il Sudan, con una popolazione estremamente variegata, ricca di, si va dalla popolazione istanziale, nomadi e con tanti tipi di, con tante etnie diverse. In questo momento il Darfur è quasi totalmente sotto il controllo dell'RSF, continuano i combattimenti a Khartoum dove RSF ha il controllo della maggior parte della capitale che si è di fatto trasferita a Port Sud, alla città sul mare, nell'area est perciò che è saldamente sotto il controllo dell'esercito dei SAF che controllano saldamente tutta l'area da est fino alle porte di Khartoum, Wad Madani dove viene controllato tutto il movimento di merci e persone verso la capitale perché si vuole evitare che passi qualsiasi cosa che possa andare a supportare gli RSF che stanno combattendo contro il SAF e stanno avendo la meglio sulla capitale. Purtroppo in questo ci finiscono dentro tutti gli aiuti immanitari tra cui anche i nostri, le nostre persone e i nostri farmaci che devono raggiungere l'ospedale di cardiochirurgia di Khartoum. Anche lo staff sudanese da poco sta iniziando a venire controllato, vengono richiesti dei permessi di transito, di movimento che prima erano richiesti solo allo staff espatriato, agli stranieri, ora vengono chiesti anche i sudanesi per entrare a Khartoum, una città appunto da cui quasi tutta la popolazione è scappata, una città quasi totalmente distrutta in cui manca tutto. Infatti anche la nostra attività è stata ed è armessa a repentaglio dalla scarsità di elettricità o di diesel per far funzionare i generatori, adesso stiamo riuscendo fortunatamente ad avere quello che ci serve per dare una continuità elettrica a un ospedale, però se al più presto non si sbloccherà l'arrivo di farmaci, equipaggiamenti e staff per l'ospedale, anche noi che siamo l'ultima organizzazione internazionale che fa chirurgia nel paese rimasta, se ne sono andati anche i colleghi di MSF e hanno dovuto chiudere la chirurgia anche i colleghi di MSF, saremmo anche noi costretti a prendere una decisione importante. è in corso la trattativa, per sbloccare questo siamo fiduciosi che possa andare avanti e concludersi con il passaggio di quello che ci sarebbe per far andare avanti le attività a Khartoum. Mentre a Port Sudan, che è una città che ha decuplicato la popolazione e dove abbiamo la quarta e la terza clinica pediatrica, c'è un bisogno enorme di tutto, fu dalle cure perché di fatto tutta la popolazione che è scappata da Khartoum si è diffusa a nord e a sud e ad est, dove è andata ad aumentare in modo enorme la popolazione di piccole cittadine che si sono trovate a dover raccogliere tutta la migrazione della popolazione che scappava da Khartoum, perciò a nord, Shendi, Atbara, a sud, Madani, Ghedarif, Kassala e a Port Sudan in realtà si sono trasferite le istituzioni anche che governano il paese. Perciò la nostra clinica pediatrica a Port Sudan che sta funzionando ha visto un aumento fino al 60% di pazienti visti negli ultimi mesi. Chiaro, questa fuga generalizzata, inevitabile in un conflitto, ce l'aveva raccontata nelle prime settimane di questa guerra Daniela Rocchi, dottoressa per Emergence in Sudan e volevo proprio chiudere chiedendoti insomma per chi è rimasto oppure chi si è spostato ma restando all'interno del paese, è una domanda impossibile immagino da rassumere in così pochi minuti ma te lo chiedo lo stesso, che cosa vi raccontano le persone, che cosa ricevete, qual è il punto di vista, il racconto, le speranze, le paure di chi si rivolge alle vostre cliniche? Fortunatamente Daniela è riuscita ad entrare, abbiamo enormi problemi a continuare a fare entrare staff espatriato a dare il cambio a quelle che ci sono e la gente ci sta chiedendo tutto, ci sta chiedendo di continuare a rimanere aperti perché un sistema sanitario e collasso non riesce a dare l'assistenza di base alla popolazione e questa è la ragione anche per cui abbiamo aperto un ospedale di primo soccorso di trauma il primo soccorso per l'emergenza e il trauma per dare un'assistenza salvavita alle persone che non trovano nel territorio gli ospedali per dare la prima assistenza al primo soccorso che trovavano prima manca di tutto, la gente ha il checkpoint sulla strada dove le nostre auto si fermano per raggiungere gli ospedali e ci ferma, si avvicina alla macchina e ci chiede di tutto dall'insulina a normali farmaci ormai non si trova più neanche il paracetamolo, la tachipirina si fa fatica a trovare e stiamo andando fuori scorta di tutto perciò la gente ci sta chiedendo di tutto e le condizioni purtroppo anche igieniche stanno peggiorando sono partite già delle epidemie di colera nella parte sud del paese i sudanesi non sono abituati alla guerra questa cosa li ha travolti li ha terrorizzati sono spaventati ha una stabilizzazione perché ci si abitua a tutto purtroppo anche alla guerra l'abbiamo visto nei tanti paesi dove lavoriamo adesso sta subentrando un problema di sopravvivenza legato alla mancanza di cibo e di assistenza sanitaria chiaro che poi la conseguenza purtroppo più tipica però in un scenario di conflitto soprattutto così prolungato insomma chiaramente potremmo farti altre centinaia di domande su questo tema il tempo stringe però e quindi ti ringrazio davvero Roberto Cristan per questo approfondimento magari ci sarà modo di tornare sul tema in futuro per non dimenticarci di questo come un po' di tanti altri conflitti dimenticati e che però continuano a fare danni in giro per il mondo ma intanto grazie mille davvero e buon lavoro grazie a voi per continuare a mantenere alta l'attenzione su questa crisi buona giornata